ciao sono andrea tecnico commerciale di me modo italia ben ritrovati sui nostri canali oggi vi parlo del picco ci 30 che assieme alle taglie da 50 e 60 rappresenta la serie commerciale e industriale di costal uno dei punti forti di questi inverter è proprio la parte dedicata alla comunicazione tutta questa serie oltre al vlan naturalmente presenta una doppia interfaccia lan l'altra cosa molto interessante è che tutti gli inverter pico ci presentano a bordo il data log integrato questo in abbinata al costal smart energy meter consente di effettuare il feed in zero se necessario comunque avere un controllo sui consumi delle nostre utenze le protezioni che monta questo inverter sono di tipo 2 sia lato a c che lato dc ed inoltre tutti i susibili al suo interno sono completamente sostituibili il che lo rende particolarmente adatto per casi di revamping quindi per sostituzioni di impianti già esistenti entriamo un po più nel particolare e vediamo la parte sotto dell'inverta l'inverta da 30 presenta due mpp t ognuno con tre ingressi la situazione varia leggermente se invece andiamo sulle taglie da 50 o da 60 i quali presentano entrambi 4 mpp t nel complessivo la taglia 50 ha 10 ingressi lato corrente continua mentre la taglia 60 ne ha 12 la corrente di cortocircuito massima per questa tipologia di inverter è solitamente di 45 ampere per mpp t con l'unica eccezione del 50 dove primi due ingressi hanno 45 ampere mentre gli altri due 30 grazie per averci seguito anche in questo video ci vediamo la prossima ciao ciao ciao